Pippa di l'amore, pippa di l'amore, pippa di l'amore, pi'stre il tempo, di fare il namentale. E qual è l'atmosfera che si respira a San Salvatore di Fitalia? Salute, vigne, è troppo bello, dopo che lo bevemo facevo un bordello. Spettacolare. Voi da dove venite? Ragusa. Ragusa con furore. Tutti da Ragusa, San Salvatore di Fitalia per la Sagra della Castagna. Devo dire che è un momento veramente meraviglioso perché stiamo riscoprendo luoghi che non conoscevamo. E vivere nuove tradizioni, nuove realtà, vale veramente la pena. Quindi consiglio vivamente a chi ci sta seguendo di venire qui a visitare almeno una volta questo fantastico Borgo. Borgo che lascia cosa? Beh, sicuramente come dicevo, il calore umano. Non indifferente. Senti sicuramente, anche se con la gente non ci siamo mai conosciuti, la prima volta che ci vediamo, amicizia. Già da zero, ecco, dal primo momento. Come state vivendo questa serata? Beh, ci sto facendo una bella passeggiatina. Sentiamo un po' di freschetto, apprezziamo già il clima che sta per diventare quasi autunnale. E le calde a roste ci riscaldano. Le calde a roste ci riscaldano. Il buon vino che viene sentito. E cosa chiedere di più da una serata di novembre? Assolutamente nulla. Siamo benissimi. E viva San Salvatore di Fitale. Salutiamo allora tutti gli amici di Bella Sicilia. E viva San Salvatore di Fitale. E viva la Sagra della Castagna. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie.